Tant'è che bisogna capire come si fa invece a far capire ai consumatori che l'ortofrutta è bella, è buona e fa bene. Questo è il vero tema, nonostante tutti ne parlano, i consumi calano, questo è un dato sostanziale da verificare, verificato e che è quello che a noi interessa soprattutto. Per cui il nostro compito è quello di cercare in tutti i modi possibili, stiamo veramente immaginando le cose straordinarie, capire come si possa interloquire con il consumatore per fargli capire in una maniera più moderna e efficace cosa facciamo noi nel nostro mestiere. Io ho 30.000 aziende agricole che fanno ortofrutta, questo è un patrimonio gigantesco che devo mettere a frutto, non più soltanto nei rapporti con il ministro.